Internazionale di tennis è qui a Francavilla, terza edizione in compagnia dell'assessore dello sport del Comune di Francavilla, Rocco Alibertini. Intanto come va? Tutto bene? Benissimo, tutto bene. Ma lei si diletta? Io mi diverto, io mi diverto, anche se sono un giocatore, anche se non di altissimo livello, però mi diverto sia a praticare questo sport che a vederlo. Quindi un grande appassione. E mi sembra che già da queste prime giornate lo spettacolo ci sia, partite combattute, gli italiani in campo si stanno difendendo, purtroppo oggi è uscito la testa di sera numero due, ci dispiace, però va bene lo stesso. Mi sembra che il livello sia altissimo. Altissimo, molto molto alto come le altre due edizioni, anche questa terza edizione sta mantenendo le promesse. Noi siamo veramente contenti come amministrazione dell'evento e dello spettacolo che stiamo dando. A proposito, un ritorno di immagine incredibile. Sì, sì, un ritorno di immagine incredibile. Se qualcuno vuole così direttarsi un attimo e andare su uno di questi siti di scommesse, vede che in contemporanea c'è Barcellona, Istanbul e tanti altri tornei e poi c'è Francavilla. Noi siamo contenti di questo perché rientriamo in questa cornice di eventi tennistici di altissimo livello. Tra l'altro, insomma, Francavilla, questi internazionali fungono da rampa di lancio per i più giovani perché, per esempio, c'è chi nato lo scorso anno semifinalista a Roland Garros. Tanto per citare un nome. C'è chi nato, esatto, ha fatto la semifinale e devo raccontare questa cosa. È stato organizzato un doppio di esibizione. Io ho giocato con lui, ma ci siamo veramente divertiti. Io moltissimo perché giocare vicino a lui è stato bellissimo. E poi me lo sono ritrovato semifinalista. E quindi una doppia soddisfazione per noi. Tante presenze sin dal primo giorno. Oggi è il secondo giorno degli internazionali. Insomma, tanti appassionati, ma non c'erano dubbi. No, assolutamente. Ieri c'era tantissima gente. Anche oggi tanti spettatori, nonostante il giorno feriale. Questo evento richiama spettatori, vuol dire che l'Abruzzo ha bisogno di questo tipo di eventi e soprattutto ha voglia di tennis. Anche per il prossimo futuro sarà un appuntamento imperdibile per Francavilla? Beh, io penso di sì. Noi ci stiamo lavorando, quindi penso di sì. Marcello Marchesini, i complimenti non sono di prammatica ma assolutamente sinceri perché l'organizzazione è perfetta, curata, come sempre nei minimi particolari. Sì, in più c'è da dire che qua a Francavilla al Mare si raddoppia il nostro impegno perché la risposta del pubblico è veramente eccezionale. Stavo parlando oggi con il tecnico della federazione Umberto Rianna e commentava dicendo che a Budapest c'è un 250 in contemporaneo al nostro torneo challenger che di gran lunga è inferiore come Montepremi e diceva non c'era tutta questa gente, basta vedere la televisione. Ma qui è una riconferma ogni anno perché già dal lunedì, ieri praticamente era una giornata di Pasquetta, piovosa eccetera eccetera, c'era gente che aspettava l'ok da parte dell'arbitro e l'ultimo match con l'ombrello che poi abbiamo potuto sospendere. Quindi veramente è una grande soddisfazione per noi portare uno spettacolo del genere qui in Abruzzo. L'effetto Fognini ha fatto molto evidentemente. Sì abbiamo avuto anche l'effetto Fognini quindi praticamente siamo in una situazione un po' particolare ma non è solo l'effetto Fognini perché l'Italia è la nazione con più giocatori nei primi 200 giocatori al mondo appunto. Quindi c'è un grande movimento tennistico maschile in questo momento dopo i fasti delle donne e quindi sono giocatori che quindi abbiamo due promesse che sicuramente nel giro di pochi anni vedremo fare i miei 50 giocatori del mondo che sono Musetti che ricordo che a gennaio. ha vinto l'Australian Open Junior e Zeppieri che è un anno di più e veramente un gran bel giocatore. Musetti che tra l'altro ieri ha eliminato proprio il Marsicano Di Nicola ma è stata una partita molto combattuta. Sì purtroppo Di Nicola è uno di quei giocatori diciamo di seconda fascia senza offesa che con le nuove regole ATP ne ha risentito perché si è trovato fuori dal circuito improvvisamente. Noi abbiamo organizzato dei tornei che danno la possibilità appunto a questi giocatori di poter rientrare offrendo una wild card. Siamo felicissimi che l'abbia vinta proprio qui a Francavilla per il primo nostro torneio e non abbiamo quattro in Italia di questi tornei challenger. L'abbia vinta un abruzzese e quindi lui ha ritrovato fiducia e quindi è stato a un passo devo dire veramente per battere Musetti. Francavilla è una tappa senza dubbio fortunata per questi internazionali siamo alla terza edizione ci sarà è possibile dirlo da sin da ora un futuro lei già sorride però immagino che... Allora vi dico subito allora questa è una data molto molto importante nel calendario perché dà l'inizio alla stagione sulla terra. Io mi sento abruzzese veramente per me questa è una città fantastica dove pensi che io ho passato ho fatto un calcolo l'altro giorno in questi ultimi tre anni ho passato ben nove mesi qua in Abruzzo proprio per cercare di organizzare al meglio il torneo proprio perché questo pubblico ci dà tante responsabilità ma anche gratificazioni. Assolutamente anche perché ci troviamo soprattutto perché ci troviamo benissimo qua devo dire che con un sindaco come Antonio Luciani sarà difficile spostare questo evento almeno finché lui sarà sindaco qua adesso questo non significa che andremo a rinnovare il contratto e sia così scontato però devo dire che se dovessi scegliere mi riescirebbe a restare qua ancora a lungo. Grazie Marchesini in bocca al lupo. Grazie a voi. Presidente Ugolini salto di qualità garantito di anno in anno in questo circolo insomma terza edizione dell'internazionale di Francavilla tantissima gente tanti appassionati grandissimo livello anzi altissimo livello. Devo dire di sì una bella soddisfazione una grandissima festa effettivamente di anno in anno abbiamo un climax ascendente di spettatori di pubblico ma anche di rose di giocatori che vengono a giocare a Francavilla. Penso che sia soddisfazione per noi ma anche per gli amanti del tennis abruzzese insomma no? Assolutamente assolutamente. Tra l'altro abbiamo saputo che è stato eliminato Quinzi il detentore del torneo 6-3-6-0. Sì purtroppo diciamo c'è stata la prima sorpresa. È la prima sorpresa poi Quinzi è anche un amico per cui un po' ci dispiace però ovviamente il tennis è così c'è una come con l'incontro c'è un giocatore che vince uno che perde per cui speriamo che il vincitore sia un vincitore di rilievo quest'anno comunque anche qui quest'anno al circolo. Assolutamente perché poi lo ricordiamo insomma il tennis è uno sport individuale e ci vuole un grandissimo equilibrio psichico oltre che naturalmente altre qualità insomma tecniche agonistiche. Beh certamente stare da soli contro un avversario poi col pubblico intorno certamente l'aspetto mentale conta molto. E devo dire che comunque i giocatori sono contenti di giocare con Francavilla anche perché trovano un clima un po' familiare per cui sono anche facilitati a trovare questa concentrazione, questo benessere diciamo nel gioco insomma. Quindi anche questa è una soddisfazione per noi qua al circolo. Quanta gente no? Perché insomma oggi è un giorno feriale. Ieri era Pasquetta abbiamo saputo almeno mille presenze forse di più ma anche oggi vedo che insomma ci sono tantissimi appassionati. Devo dire sì in realtà forse anche in modo inaspettato oggi perché essendo un rientro diciamo dopo Pasquetta invece devo dire grande afflusso, grande afflusso, grande soddisfazione più di ieri e quindi insomma ci lascia ben sperare per il preseguo del torneo. Lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, intanto un piacere di rivedere Luca Del Federico direttore del torneo. Insomma questo torneo si è costruito uno status invidiabile in questi tre anni, questo è il terzo anno. Il terzo anno, anche quest'anno un successo di pubblico sia oggi che è una giornata comunque lavorativa ma anche ieri seppure giornata nuvolosa, poi lunedì di Pasqua con molti sportivi appassionati per la gita di fuori porta. Massio, sempre bei risultati di pubblico, di attenzione da parte dei media, anche ieri c'è stato uno speciale sulle riviste online, le tv specializzate del settore, insomma un bel risultato. Bel risultato, parliamo dei risultati di oggi perché c'è subito una sorpresa, fuori Quincy il detentore del torneo sorprendentemente eliminato. A me sì, è un brutto segnale, dispiace molto per Gianluigi Quincy che l'anno scorso ha trionfato, aggiungendo il suo nome all'albo d'oro del torneo. Esce malamente Gianluigi, dispiace perché è un ragazzo d'oro, un italiano ed è un brutto colpo. Non so quanto posso incidere sulla carriera del giocatore italiano, però è un brutto colpo. A distanza di un anno di una vittoria sorprendente con una wild card qui a Francavilla, oggi perde 80 punti e scivola in un'ora di gioco dalla 140esia posizione alla 172esima. Quanto conta l'aspetto mentale in questo sport? Direi che è decisivo. L'aspetto mentale conta tantissimo. Chi molto più ha dentro di me al mondo del tennis diceva che nel tennis la testa conta per il 60%, la tecnica per il 10% e il resto è la preparazione atletica e fisica. Quindi puoi capire se il 60% vuol dire tantissimo. Se avessi avuto più testa Fognini? Fabio è un talento mostruoso, straordinario. Oggi è 12 e con la stagione della terra pochissimi punti da difendere. Se fa bene potrebbe entrare a maggio nei top 10, che è un risultato molto importante in ambito tennistico. Con un po' più di testa Fabio sarebbe stato sicuramente top 5 al mondo. Parliamo di risultati in generale di questa seconda giornata, direttore? La seconda giornata sono stati davvero tanti match. Mi aiuto un attimo col tabellone perché con la nuova formula a 48 giocatori i primi due giorni si ha veramente tanti tanti match. Ne sono stati oggi la bellezza. Poi c'è stato qualche wall cover, soprattutto nel doppio, ma tanti incontri. Abbiamo già detto di Quincy con il giocatore bosniaco Birkic. Poi abbiamo avuto stamattina la wildcard Zeppieri con Barranco Cobano. Ha fatto suo il match 6-1-6-3 Giulio Zeppieri. Poi abbiamo avuto la vittoria di Pellegrino su Vavasori, un derby tutto italiano. Si è appena concluso un match bellissimo fra Julianno Cleppo e Altra Wildcard con una delle promesse del tennis mondiale, questo giocatore tedesco Mollecker, dove il giocatore tedesco l'ha spuntata per 6-4-3-6-6-4. Altro risultato è stata l'eliminazione abbastanza facile di Matteo Viola da parte di uno dei due fratelli Imer. E poi aspettiamo tutti il match del giorno, che è un derby italiano alle 19.30. Quest'anno abbiamo la formula serale con un impianto nuovo rinnovato di illuminazione alle 19.30, per l'appunto, fra Matteo Donati e Lorenzo Musetti. Ti ricordiamo che Lorenzo Musetti è il numero uno al mondo junior, è un ragazzo di 17 anni straordinario nel suo gioco. Ieri però ha fatto fatica con Gianluca Di Nicola. Ieri ha fatto fatica con Gianluca Di Nicola, ma Gianluca è un altro ragazzo talentuoso. È un peccato che Gianluca non abbia trovato delle opportunità maggiori per allenarsi. Lui è di Avezzano, con grandi difficoltà nel nostro territorio, per trovare i giusti partner, giuste opzioni di allenamento. Ieri c'è stato un match dove Gianluca Di Nicola era in vantaggio per 4-2, servizio lui. Poi Lorenzo Musetti, diciamo con esperienza, per un ragazzo di 17 anni, con qualche drop shot di più, ha portato a casa il risultato. Stasera è un bel incontro ed è anche un banco di prova sicuramente più importante per Musetti di fronte a Matteo Donati che sta cercando di fare al meglio in questo inizio di stagione sulla Terra Rossa. Sarà il big match di questa giornata. Ne approfitto per chiedere al direttore qual è il livello del nostro tennis, il tennis regionale. È cresciuto sensibilmente negli ultimi anni? Il tennis regionale è cresciuto. Siamo, come numero di tesserati, una delle regioni, rapporto popolazione ovviamente, una delle primissime regioni d'Italia tra popolazione e tesserati. È la quinta disciplina sportiva per tesserati in Abruzzo. Ovviamente il calcio è sempre la prima. Il livello tennistico è cresciuto molto. Abbiamo due ragazzi interessanti come Gianluca Di Nicola, Giorgio Ricca. C'è un altro ragazzo che sta cercando di emergere, che andrà a picchione, tutti molto giovani. Però c'è ancora tanto tanto da fare. È uno sport così complesso, difficile, che non è assolutamente semplice trovare nella nostra regione delle opportunità per potersi allenare al meglio e poter competere con i giocatori chiaramente a livello internazionale. Grazie Luca De Federico. Grazie a voi. Grazie a Reteotto.